Quest'anno abbiamo per la prima volta l'edizione Tre Valli-Varesine dedicata alle donne, anche se abbiamo già organizzato un campionato italiano, però penso che sia una gara importante come la nostra e come le grandi gare e le grandi classiche che ci sono in tutto il mondo, ci sia l'attenzione al femminile. Noi diciamo che l'abbiamo sempre a butta, ci mancherebbe, però a volte è anche un impegno sia pure economico, di sponsor, tutti. Quest'anno ci sono stati vicini, faremo, penso, speriamo grandi cose, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di sostegno, anche se arrivano in un periodo un po' difficile, quindi la Gran Fondo sarà il giorno 3, quindi il giorno 3 magari qualcuno di voi sa cosa c'è, e quindi direi che è un impegno un po' di tutti nel sopportarci e nel supportarci. Lo sport ha sempre dato molto, noi cerchiamo di metterci il massimo impegno per la nostra città, per la nostra provincia, ma per la nostra bella Italia che è una promozione importante a livello mondiale.